Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, torniamo a parlare di criptovalute che ormai sono l'argomento più utilizzato in queste giornate perché sta salendo sempre di più la mania di acquistare bitcoin, ethereum e tante altre monete virtuali che esistono al giorno d'oggi per cui dopo aver visto qualche tempo fa il video del cashback in criptovalute tramite la carta di Crypto.com che vi ho mostrato, la mia carta Midnight Blue, oggi invece vi voglio parlare di un altro tipo di cashback che avviene in bitcoin, quindi cashback in bitcoin tramite il bellissimo sito che sto vedendo in questo momento che si chiama BitCashback e che fondamentalmente vi permette di fare acquisti sui vostri store online e-commerce preferiti ce ne sono un'infinità, per cui non vi cambia nulla a livello di costi ma semplicemente acquistando tramite questo portale, quindi raggiungendo ad esempio il sito di MediaWorld tramite questo portale voi riceverete una percentuale in cashback ma in bitcoin per cui andiamo direttamente sul loro sito e vediamo come funziona allora eccoci sul sito bitcashback.net come potete vedere ci sono un'infinità di negozi disponibili ma ovviamente la prima cosa da fare è registrarsi a questo portale la registrazione potete farla cliccando il link che vi lascio in descrizione e una volta che sarete registrati sul portale potete semplicemente accedere ad uno qualsiasi di questi e-commerce e come potete vedere sono veramente infiniti ma ad esempio noi andiamo a prendere come guida per questo video il negozio di MediaWorld che fondamentalmente è un colosso anche nell'e-commerce stessa come potete vedere c'è scritto che riceverete un cashback fino all'1,86% questa percentuale viene divisa in queste categorie per cui avete il massimo cioè l'1,86% se acquistate la categoria foto e videocamere e a scendere fino all'1,08% comprando computer, smartphone, console PC, gaming, film eccetera come funziona? Voi dovete semplicemente cliccare su questo pulsante qui quindi ottieni il cashback e arrivate su questa pagina che vi spiega un pochino come funziona per questo l'ho lasciata in modo tale da vederla insieme e quindi le azioni da fare sono molto semplici allora passa da BitCashback prima di comprare e non dopo il che significa che voi non dovete andare direttamente sul sito di MediaWorld ma dovete prima entrare su BitCashback cliccare sull'icona di MediaWorld come abbiamo fatto adesso in modo tale da far tracciare il vostro acquisto in questo caso vi chiede di svuotare il carrello per cui se noi clicchiamo qui lui ci manda un attimo sul sito di MediaWorld in questo caso io avevo già il carrello vuoto per cui posso tornare qui questo ce lo fa fare perché nel caso in cui voi aveste messo qualcosa nel carrello prima di passare da qui quell'oggetto non viene tracciato poi ci dice usa una sola pagina per fare l'intero acquisto ovvero per fare tutto l'acquisto dei vari prodotti senza aprire altre pagine e senza spostare su altri siti sempre perché altrimenti si perde traccia fai tutto l'acquisto sul sito di MediaWorld quindi ignora le proposte di acquisto tramite un canale alternativo che MediaWorld può farti per esempio di chiamare o essere chiamato al telefono da un operatore e soprattutto accettare i cookie e non usare nessun adblocker perché altrimenti anche qui potrebbe perdersi l'acquisto a questo punto cliccando su vai al negozio noi veniamo semplicemente rediretti sul sito di MediaWorld che è assolutamente lo stesso che vedreste accedendo direttamente sul sito di MediaWorld ma in questo caso all'interno della URL qui sopra c'è un qualcosa che come potete vedere c'è Other Affiliate e quindi c'è sicuramente qualcosa che dirà a MediaWorld guarda che questa persona sta comprando tramite BitCashback detto ciò una volta che voi farete il vostro acquisto vi sarà riconosciuta la percentuale che era scritta qui sopra quindi in questo caso al massimo un 86% in questo caso ci chiede se abbiamo acquistato noi mettiamo no perché in questo momento non abbiamo effettuato nessun acquisto c'è solo un'altra cosa da sapere che praticamente come io sto invitando voi ad iscrivervi su questo sito voi stessi potete poi invitare altri amici e praticamente ora vi mostro la pagina della sezione amici dove praticamente possiamo vedere tutto quello che c'è da sapere su questa sezione allora fondamentalmente che c'è scritto chiedi a un amico di registrarsi usando il tuo link e ad ogni suo pagamento otterrai il 20% del cashback questo è una cosa molto interessante perché praticamente facendo acquisti normalmente come facciamo sempre ogni giorno o insomma quando è possiamo guadagnare una discreta cifra in Bitcoin da mandare ovviamente sul nostro portafoglio quindi perché secondo me è fantastica questa cosa perché fondamentalmente questo mondo delle criptovalute in generale Bitcoin, Ethereum e chi più ne ha più ne metta è relativamente nuovo per cui al di là degli esperti del settore che sono sicuramente fanno quello dalla mattina alla sera quindi sono assolutamente addentrati in questa materia per chi vuole approcciarsi vuole avvicinarsi per le prime volte nel mondo della criptovaluta ma ha paura di mettere soldi suoi all'interno di un sistema che non conosce può farlo in questo modo quindi semplicemente facendo acquisti normali che fate, che facciamo tutti noi online ormai si acquista praticamente solo online quindi acquistando però tramite questo portale noi riceviamo dei Bitcoin che ovviamente dobbiamo andare a mettere poi nel nostro portafoglio come si apre un portafoglio potete ad esempio vi lascio sempre in descrizione il link che vi permetterà di aprire un conto gratuito su Coinbase che è una delle tante piattaforme per gestire appunto le criptovalute e all'interno di Coinbase nella voce ricevi troverete il link diciamo del vostro portafoglio che è un codice alfanumerico che poi andrete a mettere qui su BitCashback all'interno del vostro profilo per cui ogni volta che raggiungete 10 euro di bonus potete chiedere il pagamento e vi sarà accreditato appunto nel vostro portafoglio in Bitcoin hai visto mai che tra 10 anni diventiamo ricchi? ok, detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere nessuna delle prossime cose che porterò io vi saluto ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao